Sarà il torneo ladino il protagonista dell'estate okeistica italiana. Cortina, Fassa e Gherdeina si sfideranno nella quarta edizione della competizione estiva che funge da preparazione per la prossima stagione. Lo scopo del torneo, che si svolge a cavallo di Ferragosto, è anche quello di promuovere la cultura ladina. L'attività sportiva praticata in queste valli si fonde in maniera perfetta con la cultura e la tradizione ladina. L'okey su ghiaccio è da decenni protagonista, promuovendo e orientando l'attività sportiva come veicolo di aggregazione. Il torneo, bruscamente interrotto per un anno a causa della pandemia di Covid, fa da preludio all'attività agonistica delle tre società, tutte partecipanti al campionato italiano e al campionato trasfrontaliero Alps Hockey League. Lo scopo principale è di far godere ad appassionati e turisti delle belle serate di sport e spettacolo. La prima edizione del torneo è stata vinta dal Gherdeina e le successive due dal Cortina, che in caso di vittoria anche nell'edizione agostana, si aggiudicherebbe il trofeo ad appannaggio della prima società vittoriosa in almeno tre edizioni. Tutte e tre le squadre si affronteranno in partite di andata e ritorno. Sugli spalti dovrebbe tornare il pubblico. Il primo incontro è in programma lunedì e vede la sfida tra Gherdeina e Fassa. Il Cortina debutterà l'Olimpico mercoledì contro il Gherdeina. Tutti i match cominceranno alle 21. Sarà l'occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti dell'Afro, Kaskinen e Johansson, in attesa di nuovi colpi di mercato e dei rinnovi per completare il roster a disposizione di Coach Maacca.